Stato di agitazione ad oltranza dei lavoratori disoccupati calabresi in mobilità, la CGL sul piede di guerra, le notizie giunte dalla riunione romana tenutasi ieri sera tra il ministro del lavoro Elsa Fornero, l'assessore regionale all'arramo Francesco Antonio Stilitani e i vertici dell'Inps non hanno soddisfatto le aspettative. I 55 milioni erogati infatti non garantiscono ai 20.000 lavoratori disoccupati il pagamento delle indennità di mobilità fino al dicembre 2012, un dato che anche la regione Calabria non ha nascosto, perciò l'accordo siglato ieri a Roma ha previsto che una volta finiti i fondi messi a disposizione, il ministero del lavoro prenderà in considerazione il reintegro delle risorse, una soluzione che piace al governo calabrese ma che ha fatto sorcere il naso alla CGL. Secondo il sindacato con questi soldi si potrà coprire solo il pagamento degli arretrati. È da gennaio infatti che la maggior parte dei lavoratori disoccupati non percepisce l'indennità di mobilità, un dramma sociale che è venuto allo scoperto proprio ieri nel corso dei sit-in di protesta organizzati in tutti i comuni dell'alto di Reno-Cosentino. Rimaniamo uniti, ha detto il sindacalista della CGL Dario Pappaterra. Oltre all'esito negativo della riunione tenutasi ieri sera a Roma, nessuno ha posto la questione della deroga degli ammortizzatori sociali per il 2013. L'unica che può darci delle risposte su quest'ultimo punto è la regione, che dovrebbe esprimersi in merito. Convocheremo nuove assemblee e decideremo le prossime mosse, ha aggiunto Francesco Martino, anche lui sindacalista della CGL. La regione Calabria deve prendere atto di questo problema. Chi è in mobilità non vuole le mosine, ma lavoro.